Arriva dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali una notizia importante che riguarda il Castello di Carlo V. Il direttore del segretario regionale del Ministero, Salvatore Patamia, ha scritto, tra gli altri, al sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, per informarlo che il segretario sta avviando le procedure previste dalla normativa vigente per la messa in sicurezza del sito e la conseguenziale bonifica. Come noto, a seguito della segnalazione di presenza di materiali potenzialmente dannosi presso la struttura, il sindaco aveva immediatamente richiesto una consulenza all'ARPAC, al che aveva accertato la presenza, in alcune zone, di Ternum. Il sindaco aveva poi disposto la chiusura della struttura chiedendo l'intervento del Ministero. Arriva oggi una risposta positiva che si accoglie con particolare soddisfazione, considerata la centralità e l'importanza del Castello Carlo V, che ospita, tra l'altro, il Museo Civico e la Biblioteca Comunale. Una struttura che nel 2017 aveva fatto registrare, grazie anche all'azione specifica dell'amministrazione comunale, che ha puntato sulla sua valorizzazione, il raddoppio rispetto all'anno precedente delle presenze con oltre 26.000 visitatori. Ringrazio il dottor Patamia per la tempestiva risposta e per essersi immediatamente attivato. L'importanza che riveste la fruibilità del Castello Carlo V è fondamentale per le politiche di sviluppo della città, dichiara il sindaco Ugo Pugliese.